Un punto a testa per smuovere la classifica in un match che al Giovanni Paolo II è molto condizionato dal vento, senza reti tra Nardò e Gravina, in una gara davvero avara di emozioni in cui la manovra dei padroni di casa si è fatta leggermente preferire alle ripartenze orchestrate dalla squadra di Loseto. Assente Santoro a causa della febbre, attacco affidato a Bozzi e Ficara con un 3-5-2 a cui Foglia Manzillo risponde affidando le operazioni offensive come al solito a Calemme. Ed è proprio il talentuoso numero 10 Granata, farsi apprezzare con un tiro su calcio di punizione che finisce di poco alto, poco o nulla da segnalare anche se l'occasionissima del match arriva sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato, questa volta sul finire di prima frazione quando Montaperto ci prova, da posizione defilata e da vicino battuto la sfera colpisce la traversa prima di finire sul fondo. Nella ripresa Sunardò cala ulteriormente il gelo, il cross di Mengoli aiutato probabilmente anche dal vento diventa un tiro che però non sorprende vicino a metà frazione, lo scontro tra Mirarco e Bozzi è fatale per l'estremo difensore di casa che è costretto ad uscire dal suo posto in campo. Ci va Montagnolo, succede poco o nulla e nel finale ancora padrone di casa in avanti con il neo entrato avvantaggiato a crossare da sinistra, vicino smanaccia con la complicità della difesa che però rinvia a corto e la conclusione di Mengoli è tesa ma finisce di un soffio sul fondo. E' la parola a fine sul match con Nardò e Gravine a dividersi un punto a testa nella prima gara del 2020.